ho fatto questo video per tutti i miei amici sparsi nel mondo qualche settimana fa ho fatto la pasta con le mongole per la prima volta di solito questo tipo di piatto di pasta la fa mia madre ma non potendo andare in italia ho dovuto imparare a farmela da sola quindi vorrei condividere con voi questa esperienza e imparare insieme i segreti di questa ricetta deliziosa nell'occasione c'è anche un ospite d'onore una guest star la mia amica spagnola cati che mi ha aiutato a preparare questo piatto ok iniziamo 2 hours later no Grazie a tutti. 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 Grazie a tutti.